Voglia di normalità e di tornare a viaggiare. A Napoli la prima crociera del 2021, salpata da Savona, farà tappa poi in altri porti italiani, la Costa Smeralda. A bordo 1.500 persone, un segnale importante per il settore croceristico messo in ginocchio dalla pandemia. Si riparte dunque con misure di sicurezza imponenti. Finalmente si parte, finalmente ritorniamo, finalmente ritorniamo anche a Napoli. Sempre una grande emozione. Questa nave è una nave che offre il meglio di quello che l'Italia può fare. Offre design, offre intrattenimento. Il tutto in sicurezza grazie ai nostri protocolli, protocolli sanitari che partono dall'imbarco con tamponi, misurazione della temperatura, proseguono a bordo attraverso sanitizzazione e distanziamento sociale. Intanto il desiderio di ricominciare a vivere preoccupa i cittadini che denunciano caos, assembramenti e pochi controlli da parte delle forze dell'ordine. Sia i giovani che gli anziani comunque fanno i comodi loro. C'è altro che caos. C'è stata la indisciplina. C'è da dire da fare un apprezzamento alle forze dell'ordine che sono veramente completamente assenti e se presenti non vedono nulla. Dovrebbe essere normale, ma non lo è. Però i giovani purtroppo è così. Speriamo che vada tutto bene. Sono stata a casa e evito per adesso. Facciamo casa e lavoro. Lavoro casa.